Un'ondata di caldo estivo ha accompagnato questo primo weekend in bianco e il centro di Cremona ha accolto diversi turisti provenienti da varie città lombarde e non solo. Una città che non avevo mai visto e per cambiare siamo venuti a visitare, a dare un'occhiata. Però ci siamo sorpresi che c'è veramente poca gente, forse il caldo, sì, quello sicuramente. Siamo bresciani, oggi nuovi, facciamo il giro, siamo stati al mercatino. Siamo fermati prima a Brescia, Cremona, adesso torniamo a Bologna. Peccato sia tutto chiuso e la temperatura sia un po' troppo calda. Volevamo vedere una bottega di liutai ma sono tutte chiuse. La città del Torrazzo durante il fine settimana è arrivata a toccare picchi di 34 gradi. Il caldo ha scoraggiato un po' i cremonesi che nonostante le attività sembrano essere in numero minore rispetto ai turisti. Forse i cittadini si sono rilassati in piscina o nei centri sportivi. Questa giornata va male per i bar, diciamo, perché appunto vanno tutti questi centri e via. Dopo dalle sette in poi si anima. I cremonesi sono visti pochi, dire la verità. Sono più turisti che cremonesi. Il capoluogo cremonese, nonostante tutto, continua a regalare piacevoli giornate a chiunque lo voglia visitare. Una notizia incoraggiante per la città che dopo il periodo di pandemia ha bisogno di una forte ripresa. Una città che ci piace moltissimo, quindi appena possibile veniamo a fare un giro. È molto più vitale, di piacenza, più viva, per cui preferiamo venire qui. Noi siamo di Monbercelli, provincia di Asti. Abbiamo pensato di fermarci a Cremona, tanto per fare un giro turistico, assaggiare le specialità di Cremona e via. Così, un'improvvisata.